Mi chiamo Giulia Bucalossi e vi porto un punto di vista precario. Infatti ho 33 anni, una laurea con il massimo dei voti e un master, ma sono e sono sempre stata una precaria. Ho una figlia piccola e un compagno che lavora come cameraman a partita IVA ed è più precario di me. Il contratto più stabile che ho avuto è stato un apprendistato come segretaria che però ho voluto lasciare perché ho studiato per fare altro, ricerca sociale ed in qualche modo ci sono anche riuscita. Ogni giorno tocco con mano i freddi dati statistici, 28% di disoccupazione giovanile, 40% di lavoro nero, 15 milioni gli inattivi, soprattutto le donne scoraggiate che rinunciano anche solo all'idea di poter lavorare. E di fronte a questo la mancanza assoluta, unico paese in Europa di una qualsiasi forma di sostegno al reddito. Io stessa negli ultimi tre anni ho cambiato tre contratti sempre con lo stesso ente, fino a quando a dicembre hanno operato dei tagli eliminando i collaboratori a progetto per esternalizzare le attività loro affidate. Per continuare a lavorare ho dovuto allora aprire una piccola società con alcuni miei colleghi chiedendo un prestito bancario ottenuto con fatica. Ed ora continuiamo a fare quello che facevamo prima, ma con modalità molto più complicate e meno garantite. I pagamenti della pubblica amministrazione arrivano puntuali, con sei mesi di ritardo. Ho dovuto persino chiedere alla mia famiglia di anticiparmi dei soldi e ora se volessi un secondo figlio non avrei la maternità retribuita. Per questo vorrei rispondere al Ministro Castelli. Marx non parla proprio di povertà, ma di un salario minimo imposto dai padroni ad un livello appena sufficiente per la riproduzione dei lavoratori stessi. Io non sono un operaio, ma una cosiddetta knowledge worker. E però ugualmente in Italia nel 2011 vivo con un salario marxiano minimo. 145 mila euro li potrei forse guadagnare in dieci anni se non ci fossero i periodi di non lavoro. Lei Castelli il suo salario se lo fissa da solo e si vede. E la pensione ce l'ha garantita, noi precari no. Ero con altri precari della pubblica amministrazione quando sempre un ministro, Brunetta, ci ha detto che sia dell'Italia peggiore e se ne è andato senza ascoltarci. Ebbene, oggi vorrei proprio fare piazza pulita di questi politici che ci insultano, dicono frasi a bambera e chiedono agli italiani di tirare la cinghia senza dare il buon esempio. Ma soprattutto vorrei fare piazza pulita di questa precarietà delle nostre vite, che tra contratti al nero, affitti alle stelle, mondezza per le strade, trasforma la società in una giungla e tutti noi in animali feroci. Per dirla con Vittorio Arrigoni, ucciso a Gaza, restiamo umani.